Convocare un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali per risolvere la questione della continuità assistenziale. A richiederlo il consigliere del PD, Piero Lacorazza, secondo il quale la scelta da parte del governo di impugnare la legge regionale riporta indietro le lancette del confronto. Lacorazza indica due possibili strade da percorrere. La prima più delicata, spiega l'esponente del PD, è quella di procedere in ogni caso nel rispetto della legge, essendo in fase di impugnativa e non di sentenza della Corte Costituzionale. La seconda è quella di un accordo stralcio nel quale si individuino indennità aggiuntive. Per Lacorazza, poi, resta la via maestra, l'approvazione del piano sanitario che sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre, il ruolo dell'assistenza primaria, la continuità assistenziale e l'emergenza territoriale in tutto il territorio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.